Facciamo un minuto al giro per farci vedere, per farci farci! Vai, valla! Un altro giro? Un altro giro? Facciamo un altro giro di essere tupevo? Ah, essere tupevo, vai! Se lo vede, sono l'uscita, vai! Sì, però, con le luci accese, perché, mi lo dico, ti mettiamo la coreografa che davanti a te ti fa vedere. Tutto buio! Non è vero! 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 È vero! La sua menina è più linda Tovei coraggio e comecei a falare Nossa, nossa, assim você mata Ai, se io te pego, ai, ai, se io te pego Delícia, delícia, assim você mata Ai, se io te pego, ai, ai, se io te pego Tu vás, se io te pego, ai, se io te pego Delícia, delícia, assim você mata Ai, se io te pego, ai, ai, se io te pego Que? a a a a a Siamo diversiati. Questi sono tanti che ho passato a tutti. Ci sono tanti che ho fatto piacere. E tieni tu, amore, abbiamo un giovane ragazzo. Cosa è successo? No, è un giovane ragazzo. No, è un giovane ragazzo. Amati, così. E' presente, però. E' espirare. Allora, scusa, tienimela un attimo così. No, tieni, tieni. Perché prima nella votazione io devo fare un commento.